Il Ministero delle Politiche Agricole ha stanziato due centesimi al litro in più per il latte munto nelle stalle delle Dolomiti. È un contributo per far fronte all'emergenza del settore lattiero caseario. È emerso oggi a Roma nell'incontro tra il Ministro Martina e gli assessori regionali all'agricoltura. Ma come vivono gli allevatori trentini questo momento difficile con la produzione insidiata da importazioni estere di latte a neppure 15 centesimi al litro, Nereo Pederzogli è stato in un'azienda di Emiola di Pinè. Ogni litro di latte costa all'allevatore Trentino quasi 20 centesimi, un costo non competitivo se si pensa che stalle d'oltre Alpe innondano il mercato italiano con cisterne a meno di 15 euro lettolitro. Assurdità che penalizza specialmente le stalle di montagna. Attualmente il latte Trento paga attorno ai 40 centesimi, 10 in meno dello scorso anno. Due centesimi il litro di contributo dovrebbero giungere da un urgente stanziamento ministeriale, ma il futuro delle stalle dolomitiche è davvero cupo. In questo momento gli industriali hanno gioco facile, acquistando quel latte lì naturalmente guadagnano di più e sicuramente acquistano quel latte lì, bisogna prendere il latte italiano pagandolo di più, anche se è un altro tipo di latte con altre caratteristiche. Forse bisognerebbe cercare di trasformarlo in loco e venderlo trasformato appunto in formaggi direttamente. Utilizzati nel territorio hanno un qualcosa in più che all'allevatore li viene in tasca sicuramente. Voi comunque resistete si potrebbe dire? Ma non c'è altra soluzione che resistere. Indispensabile l'etichettatura del latte per tutelare l'origine, coinvolgere i consumatori che spesso strapagano latte anonimo di scarsa qualità a scapito di quanti curando stalle come questa fanno vivere pure la montagna.